Sangritana è una società, abbiamo detto più volte, in questo momento fragile che opera in un mercato complesso, che vive una crisi sistemica a livello nazionale, acuita dalle parti nostre anche dalla crisi che ha incolpito l'automotive nella Val di Sangro. Quindi abbiamo i carri fermi e questo è stato il motivo per cui abbiamo dovuto chiedere la cassa integrazione, concordandola con le unità sindacali che ce l'hanno accettata al 100% con grande senso di responsabilità. Nel frattempo continuiamo la linea di conduzione diretta da parte della società controllante TUA di Sangritana con la nomina del nostro management interno, questa volta in linea di continuità abbiamo pensato di far guidare questa seconda fase dal nostro direttore generale, il dottor Maximilian Di Pasquale, che diventerà amministratore di Sangritana e successivamente direttore generale, anche perché in itinere c'è l'ipotesi di vendita di una quota di Sangritana, non so, c'è un partner esterno che rafforzi la parte industriale di questa società e quindi in questa fase, scadrà il 15 ottobre, riteniamo di essere più efficaci, più efficienti, più veloci nel valutare e dare risposte se conduciamo direttamente noi questa società. L'auspicio è quello di rilanciare Sangritana anche perché ha un marchio molto apprezzato, ben apprezzato a livello nazionale, la sua credibilità conquistata nel tempo dai suoi operatori, dai suoi macchinisti, dalla serietà, dal know-how, la conoscenza del mercato, la rende una società interessante, tanto è vero che abbiamo delle proposte e degli interessi che andremo a verificare successivamente e l'auspicio è quello di poter rilanciare questa società seppur consapevoli che dobbiamo gestire un momento complicato, non banale, di difficoltà di gestione aziendale, ma siamo pronti per questa nuova fase. La Sangritana presenta indubbiamente degli elementi di criticità, presenta sì delle potenzialità come è stato ampiamente lo stato in passato, ma presenta anche degli altrettanti in dubbi elementi di criticità. Elementi di criticità che sono dati soprattutto dalla sua struttura finanziaria e dall'equilibrio prospettio. Bisognerà intervenire in primis per riequilibrare l'assetto economico, finanziario e patrimoniale del complessivo e dopodiché per consolidarla. Il potenziale risente in questo momento delle crisi congiuntuali derivanti sia da fattori locali che da fattori nazionali, quindi quella che rappresentava una sfida sicuramente sfidante, scusate il gioco di parole, in un primo momento diventa una sfida molto difficile in relazione al fatto che vi sono degli elementi sovraggiunti che renderanno la cosa più complessa, però l'azienda tua è vicino a Sangritana che ha il potenziale ed è per questo motivo che ha deciso di intervenire direttamente. Il nuovo ripeto, ho detto in premessa che c'è un trend crescente del fatturato, però c'è anche un trend crescente dell'indebbiamento, invece il trend crescente del fatturato dovrebbe determinare un trend decrescente dell'indebbiamento. A questo aggiungiamo che il 2024 per i fattori noti, diciamo tutti quanti collegati soprattutto alla crisi di produzione del Stellantis non prevedono neanche l'incremento di fatturato. La cassa di integrazione è un atto purtroppo inevitabile, tant'è che anche le organizzazioni indagali con grande esenza di responsabilità hanno capito questo momento perché è ferma la produzione. La produzione è ferma con investimenti che sono stati realizzati, vedi i locomotori, con personale che è assunto. Quindi la cassa di integrazione va vista come un momento provvisorio per arrivare poi al rilancio che speriamo ci sia il primo possibile.